Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi è un video riflessione, quindi non è un video preparato, sapete che ogni tanto mi piace semplicemente chiacchierare davanti alla telecamera senza prepararmi una scaletta, anche se è un video molto molto delicato in realtà, quindi spero di affrontarlo in maniera corretta. Quindi prendete anche quello che dico con le pinze, perché non sono assolutamente un'esperta, e volevo parlare appunto di alimentazione e della mia scelta alimentare, del motivo per cui sono vegetariana, visto che sono ormai tre anni circa che sono vegetariana. Volevo un po' fare un punto della situazione qui insieme a voi, e anche raccontarvi le mie motivazioni perché ho deciso di diventare vegetariana, e anche cercare di far riflettere qualcuno di voi su questo tema, perché spesso do molte cose per scontate, ad esempio quando ho deciso di fare il mio primo video sulla fast fashion, avevo già parlato qui sul canale della mia scelta di non comprare più fast fashion, e davo un po' per scontato le mie motivazioni, quindi pensavo che molti sapessero e fossero informati quanto me su alcune cose, ma devo imparare anche a non dare le cose per scontato, e quindi ho un canale YouTube proprio per cercare di informare le persone sui miei valori, sulle cose che so, e avvicinare un po' altre persone a queste tematiche. Quindi spero anche con questo video di aiutarvi anche a fare una riflessione da voi. Se magari siete onnivori e non avete mai pensato a fare una scelta vegana o vegetariana, anche a darvi alcune informazioni. Ovviamente, come vi ho detto, non sono un'esperta, quindi vi parlerò solo delle cose che ho imparato nel mio piccolo. Ci sono argomenti in cui mi sento molto più esperta, ed è per questo che ho aspettato fare questo video così tanto tempo, nonostante mi fosse stato richiesto. Ho deciso di diventare vegetariana, quindi tre anni fa mi sembra circa, spero di non dire una cavolata, mi sembra che erano tre anni fa, proprio tornata dalle vacanze estive, come una prova, come quasi una challenge che avevamo deciso di fare io e mio marito, di stare un mese senza mangiare carne. Perché eravamo molto documentati dopo aver visto molti documentari su Netflix, ce ne sono moltissimi di documentari sull'alimentazione, magari vi lascio qualche link giù nell'info box, qualche titolo più che altro, giù nell'info box di documentari che ci hanno aiutato a prendere questa scelta, e quindi abbiamo deciso di provare e di vedere se ci sentivamo meglio. E finito il primo mese, da vegetariani abbiamo deciso, ma quasi naturalmente, senza prendere una decisione proprio conscia, di continuare. Siamo vegetariani da allora, quindi dopo tre anni lo siamo ancora, e siamo molto molto contenti della nostra scelta, perché stiamo meglio, non solo per quanto riguarda la salute, che è comunque un argomento che non vorrei trattare, per non dire cavolate, ci sono molti video fatti molto meglio, io ad esempio ci sono due video di cucina botanica fatti molto bene, con una nutrizionista vegana, che spiega proprio il veganesimo da un punto di vista della salute, quindi magari vi lascio quei due video di cucina botanica giù nell'info box, che è una youtuber che se non conoscete dovete andare a vedere perché la adoro, ci sono tantissime ricette sul suo canale vegane buonissime. Quindi direi che il lato salute, diciamo che è un po', è quello più trattato, sembra quasi che sia l'unica ragione per cui qualcuno decida di rinunciare alla carne sia la salute. In realtà mi sono avvicinata al mondo vegetariano, più che altro per una scelta etica per quanto riguarda l'ambiente, perché il documentario che ha avuto un maggiore impatto su di me, e che mi ha fatto decidere di diventare vegetariana, a me e a mio marito anche, credo, è stato Cowspiracy, che vi consiglio assolutamente di vedere un documentario che mi sembra prodotto da Leonardo Di Caprio, che anche lui è un ambientalista, un attivista sull'ambiente, è molto attivo. Mi ha aperto gli occhi per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'industria della carne, dell'allevamento. Sapete che io mi occupo di ambientalismo qui su YouTube, quindi vorrei in realtà parlare di più di questo, e anche sul lato etico per quanto riguarda gli animali. Quindi la salute la lasciamo da parte, anche se ci sono moltissimi, moltissimi vantaggi e studi, che confermano che la carne faccia male all'organismo, ma ovviamente vi lascio a video di persone più competenti, e direi di concentrarci sull'aspetto etico e l'aspetto che riguarda l'ambiente. Non credo che tutti sappiano che l'industria della carne provoca molto più inquinamento e CO2 rispetto ad esempio all'industria del trasporto. È il fattore più inquinante in assoluto, ma proprio di tantissimo. Inoltre spreca moltissima acqua e spazio, perché i terreni per coltivare, tutto il cibo che serve, che è destinato appunto alle mucche d'allevamento, agli animali d'allevamento, occupa tantissimo spazio. Infatti c'è stato l'anno scorso il problema degli incendi in Amazonia, ad esempio, questo perché la tendenza ultimamente è quella di disboscare il più possibile per creare sempre più spazio per il cibo da destinare agli animali d'allevamento. Quindi è veramente molto grave, secondo me, che ci siano così tante risorse sprecate nell'allevamento soltanto perché una piccola porzione della popolazione mondiale possa poter mangiare carne, quando ci sono ancora così tante persone che muoiono di fame tutti i giorni, quindi c'è ancora il problema della fame nel mondo e tutte le coltivazioni che vengono destinate agli animali potrebbero benissimo far scomparire la fame nel mondo e quindi potrebbero sfamare le persone che non hanno cibo in tavola giornalmente. Quindi c'è tutta un'industria dietro veramente poco etica per le persone, ovviamente per gli animali perché è assolutamente disumano, come vengono trattate le bestie soltanto per poi essere uccise brutalmente perché noi non riusciamo a rinunciare magari all'hamburger. La trovo una cosa che secondo me non è più consona al 2020, quindi all'epoca in cui viviamo. Non va più bene che noi consumiamo carne, ci sono alternative tra l'altro, si stanno facendo tante ricerche nell'ambito alimentare per trovare alternative alla carne che abbiano anche lo stesso sapore, pensiamo solo al Beyond Burger, quindi anche un onnivoro si può avvicinare al mondo del veganesimo. Abbiamo detto che l'industria della carne è la più inquinante, questo perché gli animali da allevamento producono molto metano e CO2 che è molto superiore a quella emessa ad esempio da macchine e dalle nostre normali emissioni da persone, da cittadini, quindi è l'industria più inquinante sul pianeta e questo problema non viene espresso, cioè non se ne parla proprio, si parla sempre di targhe alterne, di guidare meno, di utilizzare la bicicletta, ma non è quello il reale problema. Ma il reale problema è l'industria della carne purtroppo per quanto riguarda l'ambiente e so che molti non lo sanno, me compresa, non sapevo di questa cosa prima di vedere Caspiracy, quindi vi consiglio assolutamente quel documentario perché spiega ovviamente molto meglio di quanto possa spiegare io tutta la situazione, c'è anche un grandissimo spreco di acqua per le coltivazioni animali e per me è veramente una cosa assurda se ci pensiamo. Poi bisognerebbe anche parlare dello specismo, di come noi consideriamo alcune specie superiori ad altre, pensiamo di essere noi superiori agli animali ma non solo, anche alcune specie di animali superiori ad altre. Ad esempio un cane è considerato meglio o più valevole di un maiale e quando in realtà il maiale ha un'intelligenza pari a quella di un cane, se non superiore, soffre come tutti gli animali, vuole vivere il più a lungo possibile, tutti gli animali di allevamento vogliono semplicemente vivere e noi disponiamo dei loro corpi a nostro piacimento. Secondo me è veramente sbagliato e da quando so queste informazioni non riesco assolutamente a considerare nemmeno di poter mangiare di nuovo carne o pesce perché semplicemente quello che abbiamo perpetuato per anni nei confronti degli animali è semplicemente sbagliato e credo che ogni persona dotata di una coscienza dovrebbe rendersene conto. Ovviamente io non giudico nessuno per le loro scelte alimentari, sono l'ultima persona che lo può fare, considerato che ho passato la maggior parte della mia vita da onnivora e non voglio giudicare nessuno, semplicemente voglio far riflettere un pochino su questi temi e cercare di sensibilizzare a mio modo, anche se non sono assolutamente un'esperta e ci sono tantissimi canali che ne parlano molto meglio. E niente, questo era un po' tutto quello che volevo dirvi sulla mia scelta alimentare, questo video è abbastanza breve in realtà perché vi invito in realtà a informarvi bene da canali molto più competenti, mezzi più competenti, documentari, libri eccetera. Volevo solo parlarvi di quello che penso io. Se mi seguite sapete che sono verso una via del veganesimo, non mi ritengo, non mi va di identificarmi come vegana. Definirsi vegana vuol dire che prendi delle decisioni sempre sempre coerenti con la tua scelta appunto, non solo per quanto riguarda l'alimentazione, ma anche nello stile di vita. Quindi non mi va di attribuirmi un'etichetta del genere perché non sono ancora arrivata lì, anche se al 90% comunque possiamo definire la mia dieta e anche il mio stile di vita vegano. Ci tengo comunque, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, a evitare assolutamente ogni sofferenza agli animali. Ne ho già parlato anche in diversi video, anche nel video che riguarda i materiali, i tessuti, nella moda, quali sono i più sostenibili. Vi ho parlato appunto anche di materiali animali e di come non siano assolutamente sostenibili e le motivazioni. Quindi sì, in realtà mi definisco vegetariana, o plant-based se vogliamo dirlo all'inglese. Mangio ancora pizza con mozzarella, ogni tanto parmigiano sulla pasta, ogni tanto quella dolce con le uova. Mi piacerebbe molto arrivare ad un punto in cui non consumo nemmeno questo genere di alimenti, ci sto lavorando, è un processo e ovviamente è soggettivo, quindi non sentitevi mai giudicati per le vostre scelte alimentari. È un processo che riguarda ognuno di noi e che riguarda la crescita di ognuno di noi, anche come ci informiamo e quello che impariamo determina il nostro stile di vita. Quindi volevo solo parlarvi della mia personalissima scelta senza giudicare le altre. Spero solo che da questo video ne scaturisca un po' più di informazione, magari su alcune cose che ho detto che non sapevate, magari potete vedere i documentari che vi ho consigliato, e informarvi da voi su questi temi, che per me sono molto importanti e che riguardano comunque la mia scelta di essere una persona che cerca di avere il minore impatto possibile su questo pianeta. E comunque tutto quello che faccio sul web fa parte di questo genere di attivismo, che io considero un attivismo online, di condividere questo tipo di valori con voi e quindi cercare nel mio piccolo di contribuire a cambiare il mondo. Quindi volevo assolutamente parlare anche di questo tema. Non ne parlo molto di alimentazione. Mi piacerebbe fare altri what I eat in a week o in a day, insomma. Credo che arriveranno perché sono divertenti da girare e quindi fare vedere un po' anche quello che mangio. Ma non è un canale incentrato sull'alimentazione, lo sapete, quindi è un video un pochino così, giusto per riflettere un attimo su questi temi. Spero che abbiate apprezzato. Fatemi sapere le vostre opinioni su questo giù nei commenti. Grazie mille per aver visto anche questo video. Mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!